Salve ragazzi benvenuti nel mio primo Lexplay su un gioco sul tablet cioè Dokkan Battle Allora non so se alcuni conosceranno Dokkan Battle ma io si, allora in teoria è un gioco di Dragon Ball molto bello No ma così così, è un gioco di Dragon Ball bellissimo Allora porterò per ora soltanto due dungeon cioè significa due parti del gioco e poi Fatemi sapere nei commenti se volete qualche altro video di Dokkan Battle E niente che dire, direi iniziare allora Allora questo gioco è molto bello, in pratica le barre di energia queste qui vi fanno potenziare Questo vi toglie energia, queste sono le capsule che vi serve per allenarvi E invece questo, il personaggio che troverete sempre con stop vuol dire che è un boss Boss E noi adesso che cosa andremo a fare? Lo andremo a battere Ok Come vedete qua abbiamo Kefla, Trunks e Goku Perfetto, allora metterei sempre prima di tutto Trunks davanti Allora in pratica dovete eliminare tutte le cose, dovete vedere sulla barretta Qui le barre gialle, dovete vedere se è gialla, lo dovete prendere le sfere gialle come sto detto Io adesso farò Perfetto E con questa pure, dai Dai, vai, forza, forza Dai, dai Moiti, moiti Ok Non vi sto facendo niente Spero di vincere e non fare figure di merda Perché io ho fatto molte figure di merda Va bene 66 Aia Ah Vai Kefla Sei la mia unica speranza Lei può fare l'addition Quindi vai, è forte Giganting Blast Vai Fai l'addition Fai l'addition Fai l'addition No No raga, sono morto Ancora no Perché mi sono salvato Con il C'ho un culo di merda io Quindi prendo il senso P Mi ricarico Perfetto Vai Vediamo un po' No, no, no Mettiamo il giro Ok E questo Oh Ottimo La Suprema con Kale Che sembra un po' un Broly Però non lo è Broly E scusate tanto se si vede sfogato Vai con l'addition Bam Vai, vai, vai Dai, dai, dai Dai che forse vinco Dai che forse vinco Dai che forse vinco Sì No Non me ne ero accorto Dalla barra verde Giganting Bat Vai Vai Kale Ottimo Speriamo che non dobbiamo Schippare E invece dobbiamo Schippare Dobbiamo battere Dobbiamo battere Stavolta in forma Super Saiyan Mi sa che forse Porto solo Come primo video Portare soltanto loro Questo Perfetto Direi che toglie tutte Le sfere gialle Perfetto Vai 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 Dai 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 Vai che forse lo sconfiggiamo Vabbè se non lo sconfiggio ragazzi Non fa niente Perché questo Era il primo episodio Però sono molto difficili Qui box Perché sto facendo Le challenge Vai 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 No Non l'abbiamo ammazzato Oh Attenzione di ciò No Però ma ci ammazza lui E vabbè Non fa niente Aspetta Aspetta però io C'ho le dragon stone Facciamo così Che ne ho soltanto una Per oggi E poi ci andiamo a spacchettare Una bellissima Singola Sam Perché per ora Non ho molte Le devo andare a farmare Cioè le devo andare a comprare Vai Perfetto Vai Dai Vai col big bang attack Dai che l'abbiamo quasi sconfitto Forse Spero di sì Grande Kale Vai Kale Con il critica però Doveva fare la special Oh Attenzione quanti diciono Mamma mia Ah Ma noi resistiamo Ok Abbiamo questo leggetto Perfetto Ah raga Ditemi se sono scarse Ovviamente ragazzi Ditemi che sport fate Perché Io come sport Faccio anche Anzi come domanda del giorno Vi chiedo Qual è lo vostro sport preferito Il mio sport preferito È il calcio Io faccio il portiere E per me E per me questo è il terzo E niente Ho perso Vabbè fuori di parlare Che dite Ne devo usare un altro Ma sì Vai Dopo Quindi se reagissi un attimo a cazzo E perché Sbaglio Scusatemi Vai col gigantino Ok manca poco Dai No can't activate Mamma mia Non ho filato uno Vai Activate Perfetto Che cool Vai 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 Speriamo che sia solo questo Ultimo e poi basta Perché è troppo difficile Vai 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 Ammazzalo Attenzione signori Che io Ancora Ragazzi ho battuto due fasi Due Con il dito ve lo dico Però non è giusto Sei un infame di merda Credo che Non me lo ricordavo così Vabbè No Questo è impossibile Sì Vabbè Perché secondo lui Io sono bravo Ancora devo modificare Il mio deck Che questo è già da nuovo Però Non è male Niente ragazzi Mi sa che perdiamo Questa la perdiamo Niente Ti ho dato la barra Niente Vabbè ragazzi Non fa niente Siamo riusciti Ad eliminarne Soltanto una Ditemi se volete Altri video Di dock and batto Però Facciamo un po' più dungeon Più semplici Non dungeon Pro così tantifici E per concludere Il video Ci andiamo a fare Una bella Sammo Quante Single Quante Uskay Allora Vediamo Allora Andiamo a fare Questa Single Sammo Eccola qui Perfetto Dai Vediamo un po' Cosa troviamo Di buono Adesso Le single Sammo Vi spiego Che cosa sono Le single Sammo Sono quando In pratica Dovete vedere Quanti personaggi Viaggiano E se Go Si trasforma Il super Saiyan Un buon segno Se si Trasforma Il super Saiyan Di terzo Niente Però magari Si potrebbe Spaccare Anche lo schermo Perfetto Ho trovato Una Ciafega Ok ragazzi Andrei a farmi Un'altra Single Sammo Un single Sammo E poi Concludiamo Concludiamo Qui la parte Anzi Se no Me ne porto Un gioco Della 3ds Un gioco Di poco Un gioco Anche Crash Bandicoot Ditemi nei commenti Quindi Alla grande Perfetto E non abbiamo trovato Niente Vabbè Signori Ci vediamo Nel prossimo episodio Che dire È stato bello Come primo video Ditemi nei commenti Se vi piace Tocca un battle Ciao